ciao a tutti oggi sono sono un po emozionata perché inizio questa mia nuova avventura con voi un vlog il mio sogno è solo che nell'emozione ho dimenticato di pensare a qualcosa da dire non è che è proprio il modo migliore di iniziare vero ho trovato prima di tutto dovrei presentarmi io sono una scogliattolina e mi chiamo alice e faccio la reporter questa è la mia macchina fotografica nel bosco accadono cose interessanti ogni giorno e potrei aver bisogno di scattare una foto da un momento all'altro quella che vedete è la mia casetta sull'albero vivo così in alto che di notte nessun animale può venire a disturbarmi e di giorno i rami pieni di foglie mi proteggono dal sole troppo forte è la casa perfetta e non la cambierei con nessun altro al mondo qui potete vedere la mia famiglia lui è papà lei è mamma il mio fratellino la nonna il nonno mia sorella che ora è in australia a salvare le balene sì siamo una famiglia molto numerosa ecco durante le mie giornate trascorro molto tempo a passeggiare e spesso mi fermo a parlare con gli animali che incontro nel bosco che parla che ti riparla cala il sole ed è già ora di tornare a casa quando i racconti si fanno interessanti il tempo sembra non passare mai così mi capita di chiacchierare con michele riccio con l'orso bruno continua la cerbiata beh con lupo invece preferisco non parlarci molto ogni tanto se vedo qualcosa di sospetto mi nascondo dietro il tronco di un albero e mi metto ad origliare e a sbirciare e a volte scatto pure una foto sentite cinguettare quando gli uccellini fanno tutto questo baccano significa che sta succedendo qualcosa per oggi vi saluto ciao